Venerdì 28 maggio, ultima ora, Covid-19, 3738 nuovi casi, 126 morti, sempre meno, sempre diminuzione nelle ultime 24 ore, ma ciò che più conta, positività all'1,5. Quindi vedete, io insisto su questo dato perché questo dato è dirimente, è un dato oggettivo, incontrovertibile, ufficiale, che ci dimostra che ormai il Covid sta diventando endemico e quindi si sta arrivando all'omoplasia, che poi è ciò che accade sempre regolarmente con i virus ed è anche ciò che il prestigiosissimo e famoso professor Giulio Tarro sostiene da mesi, positività all'1,5%. Ricordatevi questo dato e seguite sempre l'indice di positività che, ripeto, è oggettivo e non si può barare con questo. Grazie per l'attenzione, iscrivetevi al mio canale e alla prossima videopillolina con un indice di positività che continua a scendere.